TORINO Hanno agito di notte quando i proprietari erano in casa e dormivano. Senza farsi alcun problema sono entrati in due appartamenti di Valperga, ma i carabinieri li hanno intercettati durante un posto di controllo mentre rientravano Torino e li hanno arrestati. Ieri mattina all'alba, a Torino i carabinieri della compagnia di Benaria, nell'ambito di un servizio contro i furti in tutta la provincia, disposto dal comando provinciale, hanno arrestato tra albanesi tra i 21 e i 39 anni, abitanti a Torino, tutti con precedenti penali. La loro auto è stata fermata durante un posto di controllo e il loro atteggiamento ha indotto i carabinieri a approfondire gli accertamenti e li hanno perquisiti. In auto è stata trovata diversa repurtiva. La perquisizione a casa dei tre fermati ha permesso di recuperare 4 Rolex e altri 5 orologi di varie marche, 2 catenini in oro, un porta accendino in argento, decine di portafogli e telefoni cellulari. Si sospetta che abbiano messo a segno molti furti in appartamento e non solo nel torinese, ma in tutto il Piemonte. L'arresto è avvenuto per furto e recettazione. L'arresto è diventato per me. Bettencino aolsporti pubblicamente